carissimi fratelli e sorelle pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi 14 ottobre leggeremo con l'aiuto del signore nel libro di giosuè al capitolo 7 dove si parla di una sconfitta una sconfitta che il popolo di israele subì dopo la pressa di gerico avvenne che una sorta di sentimento di compiacimento si impossessò del popolo di israele c'era una piccola città da conquistare la città di ai che apparentemente non poteva costituire un problema per un esercito chiamiamolo così che aveva conquistato una città forte e grande come era gerico tutti pensavano probabilmente che ai sarebbe stata conquistata in un batter d'occhio e nessuno nel campo di israele così pensò di chiedere aiuto al signore perché tutti giosuè compreso confidavano ciecamente nelle proprie forze e la sconfitta a questo punto arrivò inevitabile facendo precipitare israele nello sconforto ricordiamoci cari senza il signore non possiamo fare nulla è vero otteniamo delle vittorie glorie a dio ma questo è il frutto della presenza di dio e dell'aiuto di dio in ogni cosa dobbiamo sempre chiedere aiuto al signore non solo quando ci sono grandi problemi quando arrivano grandi prove ma vogliamo chiedere ogni giorno l'aiuto nelle piccole vicende della vita chiediamo aiuto al signore affinché gli ci guidi nel lavoro nelle attività anche quelle domestiche e familiare quelle che ripetiamo ogni giorno chiediamo aiuto che il signore ci guidi nei rapporti nelle relazioni sociali affinché possiamo camminare in modo degno del suo nome e godere dell'amicizia delle persone che ci circondano chiediamo aiuto a in ogni circostanza dio non lo stanchiamo quando lo preghiamo anzi egli si compiace di figli che confidano in lui proprio questa autosufficienza fu la causa della sconfitta del popolo di israele la mancanza di consultazione del signore fu alla base di questa inaspettata debacle e giosuè si lamentò col signore la sua mente non era neppure sfiorata dal dubbio che la causa della sconfitta andasse ricercata in qualcosa che era stato commesso da parte del popolo in qualche trasgressione di cui lui non era conoscenza è sempre difficile per l'uomo a mettere le proprie colpe riconoscere i propri errori ma ricordiamoci che dio non può transiggere il peccato deve essere estirpato e anche se questa azione di risanamento può risultare dolorosa non possiamo sperare di vedere il signore dalla nostra parte non possiamo sperare di vederlo combattere per noi fino a quando il peccato la trasgressione regna nella nostra vita cos'era successo era avvenuto che nell'eccitazione della battaglia di gerico un uomo di israele acan aveva trascurato l'ordine di dio e la concupiscenza lo aveva portato al peccato e quel peccato ora stava portando i suoi frutti vale a dire la morte il signore guiderà giosuè affinché gli possa scoprire chi aveva commesso il peccato acan alla fine si vedrà scoperto e quando giosuè gli chiederà di confessare acan sarà costretto a farlo e dinanzi a questa sua ammissione inevitabilmente ci fu una pena una pena anche violenta vale a dire la sua morte potremmo guardare a tutto questo con un senso quasi di disgusto potremmo forse definire esagerata l'azione portata a termine da parte di giosuè e del popolo di israele e voluta da parte del signore ma se riflettiamo bene ci accorgiamo che tutto venne fatto alla luce di quello che è il piano di dio acan infatti non confessò spontaneamente lo fece solo quando si trovò ad essere scoperto la bibbia dice che verrà il giorno in cui tutti dovremo comparire dinanzi al trono di dio in quel giorno le opere di tutte verranno messe alla luce e per coloro che non si saranno prima pentiti e ravveduti dei loro peccati confessandoli al signore chiedendo perdono per essi invocando la salvezza in cristo gesù non ci sarà scampo e non sarà un dio ingiusto un dio esagerato nel suo giudizio sarà un dio che avrà semplicemente applicato la legge che gli ha preventivamente comunicato agli uomini o se acan si fosse pentito prima e che signore ci dia grazie a noi che siamo ancora in vita di poterci pentire dei nostri peccati mentre siamo ancora su questa terra perché dopo non ci sarà più possibilità di pentimento dopo ognuno di noi dovrà rispondere e solo coloro che avranno ottenuto il perdono divino mediante la fede in cristo gesù saranno passati dalla morte e la vita senza essere sottoposti al giudizio perché per loro non ci sarà più alcuna condanna un'altra cosa che questa storia ci insegna è il modo con cui il peccato agisce nella nostra vita a canna infatti dirà e questo lo leggiamo nel verso 21 ho visto ho desiderato le opprese di questo il modo con cui agisce la tentazione nella nostra vita d'altronde le parole di acan sembrano essere quelle relative al peccato commesso da eva nel giardino quando anche lei vide il frutto proibito lo desiderò in cuor suo e poi lo prese che signore ci aiuti a saper guardare verso quelle cose che non portano la nostra vita verso il baratro della trasgressione ci dia il signore forza di poter resistere contro le tentazioni e di poter concentrare la nostra mente su ciò che è puro e su ciò che onora il signore nessuno di noi si può meravigliare dell'errore di acana perché tutti siamo attratti dalle nostre concupiscenze e vogliamo con tutto il cuore dire signore aiutaci aiutaci perché nella nostra vita vogliamo essere puri e infine concludo il peccato di acana fu un ostacolo alla benedizione di dio in mezzo al popolo di israele se nelle nostre vite ci sono dei peccati che non sono confessati noi anziché essere di benedizione siamo un ostacolo affinché dio possa manifestare la sua gloria nelle nostre famiglie e nelle comunità che frequentiamo perciò ci dia il signore un cuore pentito e ci dia il signore sapienza e intelligenza per poter quando cadiamo ammettere dinanzi a dio i nostri peccati e ristabilire la nostra comunione con lui allora saremo di benedizione per quanti ci circondano la pace del signore sia con tutti quanti noi dio ci benedica ancora oggi grazie a tutti Grazie a tutti.